Intanto credo che tutti noi dobbiamo ringraziare te per aver fatto il passo di dare una dimensione concreta a questo impegno. Il che ha significato? In primo luogo abbandonare la strategia dei tanti mentecatti del facciamo il partito anti-euro, che non vuol dire niente, ma trovare una strategia giusta sulla quale mi sono sempre trovato con te, che era quella di infiltrare i partiti esistenti e costringerli a confrontarsi con la realtà. Tu ci sei riuscito, io no e per questo è un punto a tuo favore. Come sapete io essendo de sinistra ho provato a rivolgermi alla sinistra che teoricamente, come dissi già quattro anni fa, doveva essere la parte politica più allarmata dal fatto di vivere in un sistema nel quale quando c'è un problema bisogna tagliare i salari e bisogna tagliare i servizi pubblici. La sinistra non se n'è andata per inteso, io sto ancora cercando di capire perché, è un problema storico, ha tante radici, insomma se sono nato a sinistra è un caso, poteva andarmi peggio, potevo nascere in Zimbabwe. clic, clic. Perché lì purtroppo c'è chi sta molto molto bene, molto molto meglio di noi e poi ci stanno tantissime persone che stanno molto 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 peggio di noi, che è esattamente il tipo di società, quella con un'enorme disuguaglianza, verso la quale questa Europa ci vuole condurre. Poi ti devo dire anche una cosa, però sei un bel rosicone perché io me lo ricordo, perché a quel tempo seguivo i contatti sul mio blog, allora dico, ma investire, come si chiamava quel coso, investire, finanze, una cosa del genere dico, ma questi che vogliono da me? Allora clicco sul link di investire oggi e vedo questo e dice, ma sai che non è male questo, è un filo complottista però, complottista a me. Ma vorrei ricordarvi che il fatto che, diciamo così, questo disegno, il disegno dell'euro fosse un disegno politico lucidamente, come dire, posto da Spinelli, da Albertini, da Padoa Schioppa, poi apro e chiudo una parentesi, diciamo, quando uno muore vive nella memoria dei suoi cari, ma non è che bisogna dire per forza che tutto quello che ha fatto è giusto, d'accordo? Perché se no, altrimenti anche Adolf, buonanima, è chiaro? Quindi insomma, senza fare paragoni, ma insomma, rimane un giudizio della storia. Queste sono persone che si sono proposte lo scopo di creare delle crisi economiche per portarci ad aderire a un obiettivo politico che noi non ci siamo dati, nessuno di noi si è mai svegliato la mattina dicendo voglio vivere negli Stati Uniti di Europa, nessuno, indipendentemente da cosa questi Stati Uniti di Europa siano, nessuno di noi, nessuno di noi si sveglia la mattina dicendo voglio vivere nel paradiso terrestre, peraltro, ognuno di noi ormai si sveglia la mattina dicendo voglio sopravvivere fino a domani, perché in queste condizioni ci hanno messo per poter fare il porco del comodo loro. Questo è il punto. Scusate se faccio il tribuno della Vlebe, però diciamo siamo vicini al Colosseo e poi, come dico sempre, noi siamo in questo problema perché i politici hanno voluto fare gli economisti e adesso gli tocca subirsi gli economisti che fanno i politici e li asfalteremo, non rimarrà pietra su pietra, non rimarrà una singola cellula di questi organismi male organizzati che ci hanno condotto in questa situazione. Tranquilli, è solo questione di tempo. E intanto, grazie ancora a Claudio che ha, come dire, dopo aver avuto tanti figli di Troica in Italia, adesso abbiamo un cavallo di Troia a Bruxelles, perché io sono sicuro che ce lo abbiamo, il problema è solo sapere no, no, deve succedere, deve succedere, cioè vai, se no te ci portiamo noi per un'arecchia. L'unico problema è capire se è un cavallo a una cifra o a due cifre, io penso sempre in grande, speriamo che sia a due cifre, perché questi devono capire, devono capire. Dice, ma tu non sei a disagio di sinistra con la Lega? Bo, vabbè, intanto mi dovete dimostrare che io sono di sinistra, io non posso essere, diciamo, consustanziale a persone che dicono facciamo una crisi perché poi dopo il popolo andrà dove diciamo noi, io non posso. Poi mi dovete dimostrare che il comunista padano è di destra, cioè qui il problema non è più, diciamo così, sinistra-destra che non vogliono dire nulla, capitale-lavoro che già vogliono dire qualcosa. Qui ormai il problema è grande contro piccolo. Tutto quello che il governo Renzi sta facendo è e continua ad essere a favore dei grandi. Quante ore mi date? Poche, io me ne vado perché non devo neanche parlare. No, quanto voglio no perché se no vi annoio. Vi dico solo una cosa, ma vi rendete conto questo continuo insistere sulle riforme della flessibilità del mercato del lavoro, quando il mercato del lavoro italiano è fra i più flessibili in Europa e ce lo dice l'Ocse e quando abbiamo un problema di domanda per cui l'imprenditore non assume, non perché non può licenziare, ma perché non può vendere. A che cosa serve la flessibilità? Serve ai mandanti politici di Renzi. Chi sono i mandanti politici di Renzi? La grande impresa, possibilmente internazionale. A chi fa comodo la flessibilità? Al piccolo imprenditore? All'impiegato statale? Al docente universitario? Al commerciante? No. La flessibilità fa comodo. Alla grande distribuzione organizzata, che qui in Italia è praticamente tutta in mano estera, e in generale alla grande impresa. Perché? Perché la possibilità di mandare via, di trattare le persone come oggetti, come merce, d'accordo? Non è il modello di sviluppo italiano, non è il modello della piccola e media impresa. Nella piccola e media impresa italiana il lavoratore cresce con l'impresa, l'imprenditore se lo prende, se lo cresce e non gliene frega niente di poterlo, diciamo, cacciare se le cose vanno male. Non è questo lo spirito di nessun imprenditore che io incontro, e ovviamente non incontro i della Valle e gli squinzi, che difendono l'euro per i motivi che spiegavo ieri sul giornale. Incontro i piccoli e medi imprenditori. Quindi Renzi sta facendo, non importa se di destra, di sinistra, capitale, lavoro, sta facendo interessi dei grandi. Perché Renzi vuole una società con pochi grandi e tanti piccoli. E noi, secondo lui, da che parte stiamo? Indevinate un po', siamo dalla parte dei tanti piccoli. Allora a questo punto, se il piccolo si veste di verde, di rosso, di giallo, di nero, di blu, a me non me ne frega niente. Intanto è piccolo. E io sono piccolo. Io sono in conflitto di interessi. Come squinzi. Squinzi è in conflitto di interessi quando difende l'euro. Perché? È chiaro, a lui l'euro forte gli serve. La fabbrica in Romania gli costa poco con l'euro forte. Reimportare in Italia, le scarpe, perdonate, squinzi non è quello nero scarparo, è quello del Binaville. Reimportare in Italia la colla che il rumeno non si può comprare, perché ha pochi soldi, gli costa ancora poco. Idem per lo scarparo. Stesso discorso. Fabbrica costa poco, scarpa di qualità. Questa viene da un amico dello scarparo. Amico per modo di dire. Dopodiché il rumeno non ha i soldi, non se la compra, devi venderla in Italia e per reimportarla l'euro forte ti conviene. Quindi loro sono in conflitto di interessi. È evidente quando difendono l'euro. È chiaro, è palese. Perché non dirlo? È disonestà intellettuale. Io sono in conflitto di interessi anche quando invece l'euro lo attacco. Perché? Ma è evidente. Scusate, l'unica risposta alla crisi che è stata data è stata quella di distruggere il mio reddito è quello di tutti i dipendenti pubblici. Ora, in una città che, diciamo così, ladrona, essendo la culla, diciamo così, dell'amministrazione pubblica italiana, ma nessuno si fa due conti in tasca. Nessuno capisce che vi stanno togliendo soldi dalle tasche per tenere su sta baracca. Quando un mio collega meno fesso di me, e mi riferisco a Giuseppe Travaglini, mi ha descritto quanti soldi perdo ogni mese per colpa del blocco degli scatti che c'è stato dal 2006 a oggi, io gli ho detto Giuseppe, sai io sono ricco dentro, però tutto sommato avrei preferito non saperlo. Capito? Cioè questo è il concetto. Allora, allora che cosa si deve dire? Che questo è un referendum, come giustamente ha detto Claudio, e che bisogna votare no. Poi, qui chiudo con un'ultima osservazione, perché in questi giorni anche con scambi con altri economisti. Perché è molto interessante la battaglia della Lega? Io ne ho parlato fin dal primo articolo che ho pubblicato sul manifesto, ormai quattro anni fa, tre anni fa. Dicendo esattamente questa frase, dopo 50 anni di trasferimenti fiscali in Italia, per tenere insieme un'unione monetaria fra regioni italiane troppo diverse, al nord abbiamo la Lega, che a quel tempo io vedevo come brutta e cattiva e con le corna in testa, quelle dell'elmo ovviamente, va da sé. Dopo dieci anni di trasferimenti fiscali a botte di Eurobond o di politiche più inflazionistiche della BCE, o di trasferimenti diretti, quindi espliciti o impliciti, avremmo le camicie brune in Germania. Ora in Germania le camicie brune le abbiamo avute e le stiamo riavendo, soprattutto all'estero, non è che stiamo parlando di, diciamo, ipotesi, stiamo parlando di fatti. E c'è i baffi pure te fra l'altro, eh? Vabbè, comunque. Quindi ponevo il vero problema per noi. Allora, l'euro crolla, cioè, adesso, lo fa da sé. Uno dei tanti motivi per i quali va apprezzato Claudio è che lui, avendo, diciamo, un po' di fieno in cascina e la storia e l'economia dalla sua parte, poteva tranquillamente, ce ne potevamo andare a Maccarese, se ci fanno due spaghi, capito? Costò bel tempo. Fine. L'euro crolla. Quindi il problema è già il dopo. Allora, che diranno a Matteo tutte le volte? Ah, ma se tu vuoi che l'Italia esca dall'Europa, allora il sud deve uscire dall'Italia. Il problema esiste. Il problema esiste. Esiste. E l'Italia lo ha affrontato, per esempio, nel secondo dopoguerra, con le gabbie salariali, ad esempio. Non dico che siano al modo giusto o al modo sbagliato, ma il problema è di ripristinare una flessibilità fra nord e sud e di evitare che il gap fra nord e sud venga riempito solo ed esclusivamente da trasferimenti pubblici, che poi vanno in quella che Paolo Savona ha chiamato la pentola bucata. Questo problema esiste e è, diciamo così, particolarmente significativo che la battaglia sull'euro sia intrapresa dalla Lega, perché la Lega ha le carte in tavola, ha un percorso che le consente di mettere le carte in tavola su quello che poi è il problema. Perché è vero che l'euro ha schiacciato tutta l'Italia, ma l'Italia convive con un problema di dualismo che in qualche modo andrà risolto e che se da un lato rende totalmente assurdo e colpevole l'atteggiamento dei politici che ci hanno messo nel macrocosmo europeo, nelle stesse condizioni in cui sappiamo che il mezzogiorno sta, dall'altro deve essere uno stimolo per guardare le cose in faccia anche a casa nostra. Una volta che questo castello di carta con dietro il nulla sarà crollato e una volta che avremo riacquisito un minimo di capacità decisionale sul nostro futuro. Questo è l'auspicio, vi saluto e grazie per avermi permesso di salutarvi.